Dio ha mandato il suo figlio nel mondo affinché il mondo, cioè tutti noi, possiamo essere salvati per mezzo di noi. Ma se tu non credi, tu non potrai essere salvato. Se tu sei un ribelle, se tu vivi nel peccato, nel buio, non potrai essere salvato. Ti perderai, perderai la tua anima, perderai la tua vita. Solo per mezzo della fede, per mezzo della fede, nel nome di Gesù Cristo, noi possiamo avere il perdono dei peccati, la redenzione, la vita eterna. Il dono di Dio è la vita eterna, per mezzo di Cristo Gesù. Il dono di Dio è la vita eterna. Non perdere la tua anima. Non pensare solo alle cose di questo mondo. Non seguire i falsi dèi di questo mondo. Non seguire i piaceri carnali peccaminosi che ti portano alla rovina. Segui la via del Signore. Per mezzo della croce, per mezzo del sangue, del figlio di Dio, l'agnello di Dio, noi abbiamo il perdono. Ma gli uomini si devono pentire. per ottenere il perdono di Dio. Dobbiamo pentirci in verità. Dobbiamo chiedere perdono al Signore. a me. Dei nostri peccati. Gloria a Dio. Solo per mezzo della fede, per mezzo della fede, nel nome di Gesù Cristo, noi possiamo avere il perdono dei peccati. La redenzione, cari, la vita eterna. Il dono di Dio è la vita eterna. Per mezzo di Cristo Gesù.